Roberto, vintue! L'Etna! Ciao! Salita per l'Etna, destinazione Rifugio Sapienza verso Tornante 13 gradi e tutto va bene 14 gradi 15 gradi 16 gradi e lì in alto sullo sfondo 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 sullo sfondo e lì in alto 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 sullo sfondo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dove sarà Massimo? Roberto, siamo passati dai 18 a 20 gradi di giù. 19 gradi c'erano. E qui sono 3 gradi al rifugio Sapienza. Si sentono tutti. Si, mi colla il naso. Che schifo. E si scende dall'Etna direzione Tindari. Ci sei? Fai strada. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.